Scene di ordinaria chiusura in pieno centro a Bassano. Potrebbe sembrare l'epoca del covid, ma i tavolini accattastati e le sedie vuote senza avventori li abbiamo visti in un mercoledì di luglio. Effetto dell'ordinanza del comune che imponeva la sospensione della concessione di solo pubblico a uso plateatico e obbligava i locali pubblici a rimuovere tutti gli arredi e gli ingombri presenti in piazza Garibaldi e piazza Libertà. Tra gli esercenti c'è chi non ci sta e lamenta i disagi pur apprezzando la promozione di iniziative in centro. Ogni iniziativa da parte del comune è ben vista e accettata benissimo da tutta la popolazione dei commercianti ed è fondamentale che questo avvenga, però ci deve essere un dialogo più importante, noi siamo apertissimi al dialogo ed è fondamentale per la buona riuscita di qualsiasi tipo di evento e per rendere Bassano competitiva con le altre grandi città del Veneto. I turisti che scelgono l'Italia lo fanno per il 68% per motivi legati all'enogastronomia e trovare i locali chiusi non aiuta di certo lo sviluppo, in più il personale di servizio ai tavoli in queste situazioni viene lasciato a casa riducendo anche, seppure solo per un tempo ridotto, la vitalità del centro. Noi siamo come tutte le altre attività commerciali, abbiamo un servizio di igiene, un servizio di sicurezza, servizi primari, acqua eccetera che sono fondamentali per un turista che per muoversi la prima cosa che fa è vedere dove pranzare, dove fermarsi a bere, i locali, prima ancora di vedere i monumenti e i musei che sono sicuramente un'etapa importante ma sappiamo che si muovono principalmente per questi motivi. La porta resta comunque aperta al dialogo proprio nei giorni in cui si sta insediando la nuova amministrazione comunale. È fondamentale che ci sia sempre un tavolo aperto di dialogo, di dibattito sano perché non vi è una senza l'altra. Le amministrazioni hanno bisogno delle nostre società e delle attività commerciali, le attività commerciali hanno bisogno delle amministrazioni.